L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 25 novembre in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo a premiare l'avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto amministrativo, edilizia e urbanistica. Ecco che arriva il premio di riferimento, the winner is Umberto Grella, Umberto Grella, studio legale. Profondo conoscitore della materia e delle dinamiche giuridiche, le grandi doti di competenza e il bagaglio tecnico di spessore lo rendono uno dei più affermati protagonisti nel diritto amministrativo, edilizia e urbanistica attraverso percorsi amministrativi più adeguati, finalizzati al recupero delle aree dismesse e al programmare uno sviluppo sostenibile. Buonasera avvocato, il premio e gli scatti, perfetto. E complimenti. Complimenti a Umberto Grella. Buona serata, complimenti ancora. Siamo in compagnia dell'avvocato Umberto Grella, founder dello studio legale Grella, benvenuto avvocato. Buonasera a tutti. Avvocato, lei ha vinto come avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto amministrativo, edilizia e urbanistica. Che significato assume per lei questo riconoscimento delle fonti awards? Diciamo un punto di arrivo e un punto di partenza. Punto di arrivo di una professione che sto curando da 25 anni, sempre in questo settore specializzato e con un'esperienza sul campo, sui vari fronti sia della consulenza che del contenzioso. Un punto di partenza per nuove esperienze future che sicuramente mi coinvolgeranno nel prossimo periodo. Posso aggiungere che in questa fase ho anche ottenuto il titolo, il master di specialista in diritto dell'Unione Europea, che è un'altra materia molto interessante, che si affianca al diritto amministrativo e offre nuove opportunità professionali. E nei mesi scorsi, durante la, purtroppo, stasi del periodo Covid, ho registrato 8 video lezioni di diritto urbanistico che sono state diffuse in Italia dal Consiglio Nazionale dei Geometri, da molte piattaforme e hanno avuto ben 30.000 utenti studenti. Quindi, periodo di soddisfazione. Potete vederle, tra l'altro, sul mio sito www.umbertogrella.it. Quale ruolo avrà il consulente legale di diritto urbanistico nel PNRR? Un ruolo fondamentale, perché pochi sanno che il patrimonio edilizio italiano, per circa il 60-70%, è stato realizzato negli anni 60 e 70 del secolo scorso. È un patrimonio logoro, è un patrimonio che ha anche dei problemi proprio fisici di tenuta, c'è bisogno di un grande rinnovamento delle città, ma anche dei centri periferici e provinciali e questo esige una pubblica amministrazione attiva, ma anche consulenti che sanno aiutare sia la pubblica amministrazione sia gli operatori nel trovare i percorsi amministrativi più efficienti per gli investimenti che si renderanno per forza necessari nei confronti di questa enorme mole di patrimonio edilizio da riqualificare. Il PNRR mette a disposizione anche fondi importanti che però devono essere veicolati con procedure controllate e quindi con l'ausilio di esperti. Ecco, infine le chiedo, come si rapporta la creatività con il diritto? È una, come dire, teorica antitesi, in realtà non lo è. Il diritto è figlio della logica, quindi bisogna essere molto rigorosi e molto logici per affrontare i percorsi di un contenzioso, di una consulenza. Nella realtà però il diritto è in continua evoluzione perché si affianca ai fenomeni sociali, quindi la creatività che ciascuno di noi possiede deve essere sviluppata perché è la creatività che ti dà quella soluzione inattesa e inaspettata a un problema che ti trovi da affrontare durante una lite e che altrimenti tu non potresti affrontare e risolvere. Quindi io consiglio ai colleghi, se posso permettermi, di andare a visitare mostre d'arte, mostre di architettura, andare a vedere bei paesaggi, andare a visitare città straniere dove il concetto per esempio di edilizia moderna ha avuto delle prove concrete perché se stiamo chiusi nel nostro paese, nella nostra provincia, non guadagneremo punti e non faremo niente di positivo per il prossimo.